Ma per piacere, per piacere, vai a preparare da mangiare! Emilio, non si fa così! Tu dovevi presentare strisce insieme a me? Non sei venuto, sei un volta gabbana! Come i comunisti, Emilio, non va assolutamente bene questa cosa, va bene? Per favore, per cortesia, volete chiamare le forze dell'ordine? No, Emilio, non rimanere in quella tua stalingando comunista! Basta con i colbacchi, basta con la bocca! Ti aspetto a strisce, hai capito? Non si fa così, Emilio, non si fa così! Anzi, adesso vengo lì, hai capito? Aspetta! Gabriele, ok, il sigla è meteo!